Dove stai andando? Sto andando a fare la spesa. C'è un decreto ministeriale che ci dice di evitare luoghi affollati e pieni di gente e tu stai andando di notte al supermercato. Illudendoti che altre mille persone non abbiano avuto la stessa idea. E ci stai andando senza guanti e mascherina. Sì, però ci sto attento, l'importante è il pensiero. Te la faccio più semplice, ripetiamo insieme. Dobbiamo stare a... Decreto. D'accordo, ti spezzo la bibbia. No, 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 no!